buon salve a tutti ragazzi benvenuti in questa nuovissima puntata di satisfactory sono zerk per la prima volta mi invito ad iscrivervi al canale ed attivare la campanellina per non perdervi gli altri video che farò successivamente bene dopo questa piccola pubblicità a me stesso di solito lo dico sempre fine video però potrà se qualcuno non ci arriva a fine video per perché magari ha dovuto fare altro comunque 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 partiamo subito partiamo subito vediamo oggi 15 suggerimento del 15 vediamo se ci da qualcosa di buono oscillatore a sovrapposizione a uno spazio nell'inventario bene non so che sia ma io quasi quasi lo butterei qua perché ho questo inventario pieno perché vi farò vedere ma vabbè comunque comunque ritorniamo a noi 15 ma il 14 noi l'abbiamo aperto vediamo un po 14 no nemmeno il 14 e si nel 14 ci dà dei pacchi regali che non ci interessano va bene io mi riprendo questo e vi faccio vedere cosa fa per quanto riguarda il petrolio ecco allora partiamo da questo presupposto ho aggiunto delle mod una in particolare per essere più veloce nel costruire la seconda per bellezza ho costruito questi le luci adesso sta impostato in automatico perché ecco il primo bug non me l'ha mai fatto mi esce l'inventario va bene comunque volevo accenderlo illumina ci sta questo tipo qui che si sblocca noi sempre da qua infatti alcune ancora le devo sbloccare tipo questo andando avanti ho sbloccato questo mi dai pannelli solari ho dovuto fare il carbon mesh e altre cose per produrre energia ma queste non mi interessano quello che mi interessava di più che ho sbloccato è questa la pala aerolica almeno possiamo dare possiamo alimentare il nostro la nostra lavorazione del petrolio ho buttato già giù delle fondamenta ho buttato già il torre di petrolio poi volendo potremo andare avanti sviluppando anche i pannelli solari più potenti però per adesso va bene così per quanto riguarda la costruzione è un fast build come posso farvelo vedere ve lo faccio dire tipo così possiamo dare una direzione possiamo allungare possiamo allargare e lui ci costruisce tutta questa zona eccolo è diventato notte si è acceso vedete illumina è un'illuminazione di ci dà anche questi pali qua e poi ci dà anche queste queste luci che non ho capito come funzionano perché non sono alimentate però forse devono essere attaccate vicino all'alimentazione non lo so non ho idea però non è che mi interessa più di tanto perché voglio farvi vedere cosa ho combinato allora a parte che siamo ultra pieni di cose perché dobbiamo iniziare a fare la nostra raffineria partiamo di notte non fa niente qua c'ho già il mio explorer in verità sono andato prima con il trattore perché giustamente lui contiene molti più oggetti rispetto all explorer o no no ho detto una cazzata non è vero niente non è vero niente agli stessi ed è anche più lento quindi ho detto una cazzata lasciamo perdere lasciamo perdere andiamo avanti vi faccio vedere cosa ho combinato tutto parte da qui da questa salita devo ancora finire di completare ve lo dico già ma in parte è funzionale ho deciso di fare così perché almeno quando poi sbloccheremo i treni perché poi un giorno potremmo sbloccare i treni avremo già un punto d'appoggio dove far passare le ferrovie perché poi le devi far passare dall'alto sarebbe impossibile farli passare in mezzo alle piante e quant'altro credo quindi abbiamo già un diciamo un qualcosa che ci direziona verso la nostra base e per di più partendo da lì possiamo fare la stazione più in alto ed è già come posso dire indirizzato per o caccio posso per uscire fuori ok quasi vi ripeto completato mette altre barre laterali qui le ho messe più che altro perché sono le piante però comunque devi fare attenzione perché l'explorer sì non ci fate caso questo perché io era andato diritto e poi volevo fare una linea diritta poi perché sinceramente così è un po bruttino però effettivamente se noi facciamo una cosa del genere più in là quando riusciremo a portarci proprio l'energia potremo tranquillamente tipo mettere questi pali qua però mi devo mettere più lontano se no non vedo la direzione per esempio così sarebbe figa una cosa del genere tutti i pali che si illuminano perché sono illuminati i pali per la strada e tu che passi qua in questa strada illuminata figo deve essere figa una cosa del genere o magari potrò mettere vari pannelli solari perché ho sbloccato anche i pannelli solari che vanno applicati proprio sulla base adesso li installeremo perché comunque serviranno per far andare avanti la raffineria e la pompa di estrattore di petrolio non la pompa non è che generano chissà quanta energia perché in realtà noi dovremmo adesso fare anche una struttura che ci innalzi che più in alto sta più funzionano però il fatto è che se ne metti uno cioè se metti una paleolica all'interno di 56 metri di raggio queste due paleoliche hanno meno efficienza quindi non le puoi spammare ecco allora siamo arrivati fin qui posso bellissimo qua acqua infinita quindi quella struttura volendo la potremmo sfruttare poi per mettere giù delle pompe che aspirano l'acqua un domani e qui c'è il nostro estrattore di petrolio bene avendo qui il nostro estrattore di petrolio io farei proprio non so se farla qui o magari fare un altro quadrato e poi inalzarmi e mettere la paleolica lì ma sì facciamo facciamolo così vabbè io intanto giustamente ho bisogno del calcestrus ho portato il calcestrus non mi preoccupate ho portato ex a tutto quanto qui dentro ok ho fatto una struttura un po più elevata tranquillamente molto easy peasy come si può dire con delle fondamenta e vediamo un po come funziona a porta proprio una zona a parte la nostra wild turbine questo è l'mk 3 e non abbiamo i materiali c'è effettivamente qualcosa lo potremmo fare questo alluminio non ce l'abbiamo però produce molto di più mentre questa qua mi produce può generare fino a 200 milli watt megawatt scusatemi quindi penso che andrà bene questa la piazzerei sì qua sul lato qui non è che siamo molto alti e infatti ci produce 56 no l'efficienza beh questa qui 75 megawatt non so quanto deve cioè quanto deve stare alto per produrre così tanto forse deve stare tipo molto più alto di quelle montagne e fino a per produrci quella quel quantitativo però noi abbiamo anche i pannelli solari ne riesco a fare quattro si e io quasi quasi li metterei proprio qua sopra fianco a lei così colleghiamo tutti faccio tipo una struttura così e per il momento ne metto 4 qua poi più in là perché comunque i pannelli solari funzionano solo di giorno calcolate pazzi occupato ebbene butto altri due qua 1 e 12 ok abbiamo messo anche i pannelli solari farei anche una pala elettrica livello 2 ma mi mancano il no non lo posso fare allora ho fatto due pali così perché così colleghiamo due pannelli da voglio collegare questo questo due pannelli qua terzo pannello e il quarto filo e ultimo a quest'altro palo così questo poi lo possiamo collegare alla pala eolica e all'altro pannello e abbiamo un altro cavetto che io farei scendere giù non mi servono i pacchi finitela di lanciarmeli io so che si possono pure eliminare quasi quasi lo farei allora questo qua e questo ha quattro collegamenti uno lo farei anche già questo quindi il nostro estrattore di petrolio è in funzione sinceramente farei una cosa del genere non voglio buttarmi giù ma voglio buttare giù va spero che le abbia buttate giù ma io vedo come se mi blocco qua come se fossero dei blocchi trasparenti non fa niente bene ah erano in volo va bene vi faccio vedere come funziona il fast build davvero davvero figa come cosa quindi facciamo le fondamenta e mettiamoci la freccia con alte ti allarghi e mi voglio allargare in questo senso qua così dovrebbe essere preciso con ctrl lo ruoti eco shift invece ti allunghi io mi allungherei di 8 facciamo un 8 per 8 vedi in alto a destra ti dice anche la grandezza e lui ti consuma sempre le risorse però ti costruisce invece di farlo una alla volta anche perché lì c'è un altro po di petrolio che vorrei prendere anche se adesso non è che abbiamo chissà quanto bisogno però facciamo un 10 ci allarghiamo da quest'altro lato qua ah non abbiamo materiali sufficienti così vediamo se siamo arrivati almeno all'altro petrolio può da spru che l'abbiamo sorpassato no giusto giusto ci sono anche dei mostri attorno bene quindi li dovrò sconfiggere però per adesso ci sta bene una sola stazione almeno abbiamo anche tutto questo spazio per poter lavorare il petrolio e sinceramente sinceramente avevo pensato una cosa di fare un'altra struttura sotto dove far passare i tubi e tutto il resto allora per adesso inizierei con qualcosa di piccolo poi magari ci allargheremo successivamente allora avendo due ingressi e due uscite fare una cosa pulita allora l'ingresso lo metto da dietro e faccio arrivare tutto da dietro ok però lui ha un'uscita che ci interessa più che altro una è quella che ci produce quello che vogliamo tipo la plastica la gomma e però ci dà uno scarto che è questo petrolio pesante noi con questo petrolio pesante potremmo fare questo carbone petrolifero per poi poter alimentare la stessa stazione con questo carbone petrolifero oppure con dell'acqua no oppure carburante residuo carburante residuo che penso che sia ancora meglio però voglio capire questo carburante residuo noi come lo possiamo sfruttare quindi dobbiamo comunque fare dei test anche perché io poi devo costruire dei devo anche costruire dei buffer dei liquidi quindi devo scendere ancora di un punto perché qui sotto non li posso costruire e sinceramente non li posso mettere in alto che scende sale cioè che cazzino faccio allora ragazzi sono sceso di un bel po' quindi ho fatto la parte di sotto molto più bassa e ho pensato una cosa l'inizio è che noi qui comunque possiamo gestire lo spazio come vogliamo diciamo di chiudere questa zona per far sì che questa parte qui non ci sia del tipo così e quindi far scendere di nuovo giù i tubi quindi alimentare vari buffer di liquidi cioè contenitori quelle cose lì per poi distribuirli altre raffinerie da quest'altro lato che ci producono che non so carburante tramite lo scarto che fa carburante e quant'altro abbiamo anche un altro poco di spazio per poter far passare i conveyor alberto le potremo sempre far scendere giù anche queste che poi giù distribuire tutto e mettere che ne so tipo dei container qui grandi dove arrivi qualsiasi cosa che vogliamo tanto di spazio ne abbiamo lo possiamo fare a mezza altezza possiamo fare vari piani uno dove mettere tutti lo stoccaggio dei liquidi in altro la vedo la vedo buona come idea spero che sia anche per voi la stessa cosa l'unico mio inconveniente è che debba usare questi questi pannelli qua o almeno questo il 4 diciamo quello lì è arancione non posso utilizzare il numero 5 che avrei preferito di più io ho schiacciato il numero 5 questo qui perché essendo una cosa del petrolio sai questa qui è molto più bella da vedere come fabbrica industriale è perché non ho ancora sbloccato diciamo i buchi dove fa passare i nastri trasportatori all'interno quindi purtroppo devo fare una cosa del genere e per di più non esiste un qualcosa che mette solo un buco sul lato non esiste un po'